ecco qua 200 grammi di prosciutto crudo 35 euro 7 euro 7 euro 200 grammi prosciutto scusi ma ha tolto la carta scusi ma se tolgo la carta che faccio me la metto in mano no in mano però mica ve lo metti giovane non so capite al disco a me mi c'è di qualche cosa mi piace 32 grammi 400 grammi tolgo forza